Diciamo la replica di Carbone. Proprio perché lei da 5 anni sta sul territorio e vede questi disagi, ha fatto l'esempio di 10 euro, parlare di 80 euro come una pezza a mio avviso è offensivo nei confronti proprio di queste persone. No, l'ho detto che è il 10% del diritto. Io l'ho ascoltata e l'ho interrotta. Però non può essere questa l'unica riforma. Dopodiché le dico, lei ha fatto un esempio prima sul Giobacti, tre anni, gli otto contratti ripetuti. Ha detto una cosa relativamente alle donne, a mio avviso una teoria tutta sua. Mi piacerebbe però sapere invece qual è la vostra proposta sul mondo del lavoro. Però una proposta concreta, realizzabile. Non iniziamo a parlare di voli pindalici, di sogni, di tutti i contratti indeterminati, stipendio minimo 3.000 euro. Parliamo di cose concrete. Io ho molta stima da Alissa Tsipras, ci mancherebbe. Mi auguro che faccia un buon risultato in Europa, questo ci mancherebbe. Però mi piacerebbe anche voi se ti parli di contenuti. Noi abbiamo messo su le nostre idee. Chi le critica, chi le appoggia, tutto migliorabile. Ci mancherebbe. Però mi piacerebbe sentire anche il vostro programma. Sì. Sì.